In un momento storico come questo ricerca e imprenditoria riescono ad andare a braccetto? Questa è una delle cose più importanti e fondamentali perché se vogliamo che gli imprenditori possano mettere a servizio anche per il futuro cercando di rispondere a quelle logiche, un po' ci chiede anche l'Unione Europea, quindi di riduzione delle emissioni climalteranti, di ricerca di prodotti di origine naturale che possano sostituire quelli di sintesi chimici, ecco che dobbiamo veramente cercare di collaborare tra mondo della ricerca e mondo dell'imprenditoria. E' questa la strada tracciata da Biodea ormai da oltre 5 anni, mettere insieme le risultanze scientifiche rispetto ai due prodotti distillato di legno e biochar Biodea con le esperienze sul campo. Allora abbiamo avuto risultati su fioriture almeno del 30% in più rispetto agli scorsi anni, sono stati attuati interventi con distillato di legno e microorganismi diciamo biostimolanti della ditta isla che combaciati insieme ci hanno portato ad un ottimo risultato sulla vegetazione, siamo intervenuti per prevenzione da afili e tripidi ed in più abbiamo avuto un anticipo su culture sia arboriche che d'ortigle di almeno 15 giorni. Su quali culture lo avete sperimentato? Allora sono state sperimentate sia su culture esotiche, quindi iniziamo a parlare di mango o avocado, sono state sperimentate su canapa e sono state sperimentate in più su melograno. Ci differenziamo dal chimico soprattutto perché non uccidiamo tra virgolette tutti i microorganismi che sono nel terreno ma anzi le andiamo ad amplificare e portiamo diciamo alla pianta ad essere nel suo stato di benessere ottimale. Quindi diciamo è una strada verso questa agricoltura sostenibile che può essere percorsa? Certo, certo. Utilizzato in culture anche particolari quali la cultura della coltivazione in idroponica dimostrerà di consentire alla pianta di non assimilare dei metalli che spesso non si vogliono arrivare nei nostri alimenti, quindi in coltivazioni in terreni con una particolare caratteristica di inquinamento da metalli andremo a vedere e a dimostrare come il biociare ha la caratteristica di trattenerlo e non trasferirlo all'apparato vegetativo. Anche l'ultimo workshop dal titolo frutticoltura sostenibile e utilizzo del biociare in culture idroponiche ha avuto un enorme successo seguito a distanza dall'Accademia dei Fisiocritici di Siena. Ecco, la vicinanza delle istituzioni ma anche delle associazioni di categoria fa sempre molto piacere. Questo sicuramente segna il passo rispetto anche al percorso che voi state portando avanti. Sì, per noi è significativo ed importante perché significa che siamo tutti orientati verso un interesse comune che è interesse dell'agricoltura rappresentato anche dalle loro associazioni di categoria ed è accompagnata da tutte e tre le associazioni di categoria, la CIA, la Coldiretti e la Confagricoltura così come dei saluti istituzionali. Quindi questo sta a dimostrare che l'impegno è un impegno orizzontale di tutte le parti quindi del consumatore così come dell'agricoltura e degli interessi per l'ambiente. Il prossimo workshop è in calendario il 7 di maggio.